Non ce l'ha fatta Roberto Nicolai, l'uomo di 82 anni, investito giovedì mattina sul viale 20 Settembre in località Fabrica a Carrara. L'anziano stava cercando di attraversare la strada, sempre trafficatissima, quando è stato investito da un'auto. Era stato portato in codice rosso dall'ambulanza infermieristica India all'ospedale Noah di Massa, messo subito in rianimazione. Ma purtroppo le ferite riportate, un trauma al volto e uno alla testa, sono state fatali. Si è spento nella giornata di venerdì. Da una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada, poco distante dalle strisce pedonali, vicino a semaforo con via Stabbio, quando un'automobile, passando, lo avrebbe colpito con lo specchietto anteriore sinistro. Proprio l'urto con lo specchietto lo avrebbe fatto sbalzare e sbattere violentemente a terra. Non è la prima volta che il viale 20 Settembre è teatro di incidenti, anche mortali. Quest'ultima tragedia riporta ancora una volta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale. sulla maggiore arteria che attraversa tutto il comune di Carrara.